Questo forum dell'export si inserisce bene nelle attività che facciamo come Camera di Commercio e anche come azione delle istituzioni sul territorio per aiutare e supportare le aziende a essere più competitive nei mercati internazionali. Non è solo un fatto del Piemonte che l'Italia è fatta di PMI e non tutte sono così capaci e preparate per andare all'estero e quindi come Camera di Commercio facciamo tantissime attività per accompagnarle e per supportarle sui mercati internazionali. Questo forum con grandi imprese a livello nazionale è anche una grande occasione per sostenere le attività che già facciamo. Tra l'altro il Piemonte sta facendo bene nel primo trimestre, un 16% in più di esportazioni, quindi è un buon segno, la maggior parte è dovuto anche all'esportazione dei mezzi di trasporto. Questo è un fatto peculiare del nostro territorio, però è un dato positivo. Torino fa quasi un 22% rispetto alla regione Piemonte, quindi è ancora più forte il territorio del torinese.